Prima di lasciarvi il video ragazzi che vi ricordo che ogni giorno alle 2 e mezza erano i live Fake Adetv Vi aspetto Stavate facendo Stavate facendo Stavate facendo Stavate facendo Stavate facendo Stavate facendo Ma lui ha messo il giorno Ma quella cosa Ma lui ha messo il giorno Ma quella cosa Ma quella cosa Ragazzi vabbè tanto la mia guida la sapete ormai Dai che però ti coppia Stavate Ma io che ne so che camminando su un prato all'improvviso la guruma vola Ha spinto un po' di piedi E' vero del far non nuove Che significa? Mangia di la noce Mangia della tulla noce Scusate se si arrapiscono adesso raga Ti fai male occhio signorino Ecco No se No es Non fa un tipo Ah Chia 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 Lei è un po' un cretino Posso diglielo Con tanto affetto Mi voglio bene Sì adesso Facciamo Oppure si stanca Hai sonno Non è che se fai così voli Sì Se faccio volare io Una pistola è una parte del guidatore La pistola è una parte del consigliere No Ah ho capito Adesso che cosa Ho sbagliato Mi è partito Mi è partito Mi è partito Grazie Tude Mi è partito Non volevo Mi dispiace Oh È vero Ma io pensavo che stava sopra ancora Patricia ha chiesto anche il mio numero Lo so che va chiesto il numero Eh lo so che va chiesto il numero Sto stronzo Oddio Adesso manco lo porto all'ospedale Lo lascio affogare qua Ma no dai Dici? Ma l'avevo la fatta apposta Cazzo Cazzo Giovanotto Cazzo E' vai No Cazzo Porca puttana Allora Merda Oddio Senta Giovanotto Contro il muro Subito Variante Di vari Chi le gambe Lei è un polle Voleva Credere Aspetta Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Polizio 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 Entra Chiamano mozzarella Sai qualcosa di lui? Mozzarella L'unica mozzarella è quella che ho mangiato già pranzo in mezzo all'insalata Quanto la paga al kilo? Dipende Però non quella della Quella imbustata del supermercato Mamma mia Che scivola Ciccio hai sentito? Non guadagna abbastanza in centrale Quando la paghi quella imbusta? Quando la paghi quella imbusta? Questa qua Vaffaculo Sbirro di merda Ecco Lucio là Si sente male? Dovevo chiamare l'ambulanza Che mi fai infatti L'idea Il suo cognome Il cognome Devo svegliare Che è il peso L'imperior Mi si è rotto il telefono Ma Eh l'aircob Va bene Cusciolo Ok ok Nel caso poi in futuro Volevo cambiarlo Al massimo se si cambia diventerà Contra Cazzo Certo che frimo Cusciolo Tu Strimo si Strimo Ecco Guardate che impegno Oh cacchio Oh è sbritto Oh Oh Sbritto Facciamo così Ma chi è sto piccione qua? Ma non lo so Perché c'è un piccione Ah scusa Marimma mezzo Trotto i coglioni a sto cecchino Crac Crac Oddio Si si andava subito Oddio Sono venuto con la mia macchina Oddio Ma che cazzo Le gomme Mario Come scappamo adesso Eccolo So Ma Na 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 Ma Na 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 No no raga no raga si si vola oh cazzo no raga ok cazzo se vi è piaciuto ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi altri video simili e mi raccomando spolliciate questo video più che potete e ora andate a commentare con una bella fiamma